ciao amiche mie buongiorno oggi vi vorrei parlare di bucato in particolare di un detersivo per i panni per la lavatrice veramente anche per lavaggi a mano appunto che ho acquistato qualche giorno fa ho provato a fare qualche lavaggio mi sono trovata molto bene e quindi ho deciso di condividere con voi questa esperienza il detersivo in questione è questo freschezza di montagna è un detersivo granulare concentrato molto concentrato infatti come vedete è un 3 a 1 quindi ne basta veramente pochissimo molto molto buono made in germany eccolo quindi fatto in germania amico dell'ambiente e non tossico per gli animali il profumo mamma mia è buonissimo ragazzi tra l'altro dura sui vestiti anche dopo la lavatrice è veramente fantastico oltre a questo detersivo io ho acquistato anche la candeggina all'ossigeno per sbiancare i bianchi eccola qua questa è un formato da 500 grammi anche questa è granulare ecco ve la faccio vedere così non so se se si vede molto bene e comprende anche questo misurino anche qui ne basta veramente pochissimo perché anche questa concentrata quindi vi basterà metterne no questo è troppo vi faccio vedere ecco proprio poco poco ecco qui ne basterà pochissimo da mettere in una lavatrice carica completamente per sbiancare i vestiti ma andiamo a vedere come funziona sia il detersivo che la candeggina all'ossigeno allora io ho preparato questi che fanno pietà sono dei calzini erano dei calzini bianchi inserisco la lavatrice che in realtà è già piena quindi ci vado a mettere questi quindi prendo un pochino di detersivo veramente veramente non so se si vede eccolo ma è pochissimo aggiungo una puntina di candeggina all'ossigeno ok ora la chiudo faccio partire la lavatrice e vediamo il risultato amiche mie allora la lavatrice pronta ho tirato fuori i vestiti qui ho i calzini che avevo inserito dentro erano completamente neri lerci sono perfettamente bianchi sembrano nuovi tra l'altro hanno un odore di pulito fantastica che è buonissimo mi piace tanto quindi se siete alla ricerca di un prodotto che profuma un prodotto che pulisca bene i vostri vestiti e una candeggina all'ossigeno che smacchi molto bene e faccia venire i vostri bianchi molto bianchi questi sono i prodotti per voi ok quindi se volete scrivetemi mettetevi i vostri commenti se vi piace questo video iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo per il prossimo video ciao